E' un'avventura che ci siamo con chiun'occhiere! C'è la mano qua! 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 C'è! 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 E ti raccoglierai, e poi te lascerai, lungo tutta strada, che te tornerai. Un problema di inducasciò, è che spesso tu lo potrai, se che so che renderai, lungo la strada. Un problema di inducasciò, è che spesso tu lo potrai, lungo tutta strada, lungo tutta strada, lungo tutta strada. Un problema di inducasciò, è che spesso tu lo potrai, lungo tutta strada, lungo tutta strada, lungo tutta strada, lungo tutta strada. In un'altra, in un'altra, un'altra, un'altra... ...discotecari! Volevo salutare i minoreni qua che spuntano. Tocate all'asilo... Allora, spuntate la vostra mamma, mettetevi un dito sotto il culo. Allora, spuntate la vostra mamma, mettetevi un dito. Allora, spuntate la vostra mamma, mettetevi un dito. Allora, spuntate la vostra mamma, mettetevi un dito. Buona giornata Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Questa Grazie a tutti 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 Più che Grazie a tutti 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 Grazie a tutti